Musica TG2000 edizione delle 20 e 30 Buonasera, buonasera a tutti voi Apertura dal Vaticano per l'udienza generale del Papa dedicata al triduo pasquale Gesù è l'unico che ci fa rinascere ha detto Francesco, la Pasqua è la festa che ci fa cambiare vita dura la condanna del Papa per chi si dice cristiano e non cambia come i mafiosi e i corrotti Paolo Fucili Si chiama triduo perché dura tre giorni ad iniziare della messa domani sera con la lavanda dei piedi tre giorni che segnano, dice Francesco le tappe fondamentali della nostra fede fino a Pasqua, domenica la più importante festa di noi cristiani Ma voi sapete, io fino a 15 anni credevo che fosse il Natale tutti sogliamo Udienza del Mercoledì Santo in piazza San Pietro già addobbata per Pasqua, appunto E non finisce con la colomba, le uova, le feste ma questo è bello, è bello perché è una festa di famiglia Ci sono paesi, racconta il Papa dove la gente a Pasqua si saluta Non con buongiorno, buonasera No, Cristo è risorto Infatti questo è il nocciolo della nostra fede Sabato sera, alla veglia pasquale non a caso il Papa battezzerà otto adulti proprio nella notte in cui, dice San Paolo le cose vecchie sono passate e ne sono nate di nuove E allora un cristiano, pur rimanendo un peccatore non può essere più un corrotto con la putredine in cuore Per non andare lontano pensiamo a casa ai cosiddetti cristiani mafiosi Ma questi di cristiano non hanno nulla Si dicono cristiani ma portano la morte nell'anima e agli altri Preghiamo per loro Un'altra usanza è far lavare gli occhi ai bambini al mattino di Pasqua in Argentina e non solo Per fare un segno di poter vedere le cosse di Gesù Infine un buonario consiglio sempre in vista di Pasqua ai rumorosi ispanofoni in piazza Oltre a tanto barulio lindo cioè bel chiasso Fatevi anche una buona confessione E TV2000 seguirà in diretta i riti del triduo pasquale Ecco gli appuntamenti a partire da domani giovedì santo alle ore 9.30 lo vedete diretta da San Pietro per la celebrazione della Santa Messa del Crisma Nel pomeriggio il Papa raggiungerà il carcere di Regina Celia a Roma per la Messa in cena domini e alle 20 TV2000 vi porterà in diretta in Terra Santa per seguire la veglia dall'orto degli ulivi E domani dunque per Papa Francesco la Messa del Crisma poi nel pomeriggio sarà nel carcere di Regina Celi a Roma per la Messa in cena domini dove laverà i piedi a 12 detenuti tra loro anche due musulmani Con Cristiana Caricato ripercorriamo insieme le visite dei pontifici nel carcere e l'attesa per Francesco nelle parole del cappellano di Regina Celi Don Vittorio Trani Aveva celebrato il primo Natale da pontefice Giovanni XXIII il 26 dicembre del 1958 scelse di recarsi primo Papa dopo 90 anni nel carcere di Regina Celi per una visita storica che rivelò al mondo insieme all'incontro con i piccoli pazienti del bambino Gesù la straordinaria umanità di Roncalli chiamò il più famoso luogo di detenzione romano casa del padre e la sua presenza nella rotonda affollata divisi bagnati dalle lacrime rimane tra le immagini più belle del novecento dunque eccoci qua sono venuto mi avete veduto io ho messo i miei occhi nei vostri occhi ho messo il cuore mio vicino al vostro cuore questo incontro siate pur sicuri che resterà profondo della mia anima ladri assassini truffatori commossi per l'abbraccio misericordioso del pontefice fecero tremare i muri applaudendo in un crescendo di emozioni che raggiunse l'apice quando Giovanni ventitresimo volle abbracciare un recluso che gli si era gettato ai piedi ancora stordito per le parole di speranza del papa scene che si sono ripetute negli ultimi sessant'anni almeno altre due volte nell'aprile del 1964 Paolo VI a ricalcare il gesto del predecessore incontrando quelli che definisce figli carissimi nella rotonda riempita in ogni ordine dai reclusi celebrerà la messa sull'altare in legno costruito dai detenuti e durante l'omelia interrotta dai singhiozzi dirà ricordatevi che il papa vi vuole bene nel 2000 poi la visita di Giovanni Paolo II ormai segnato dalla malattia con la richiesta pressante di un gesto di clemenza durante il giubileo proprio in favore dei detenuti fu in quell'occasione che so parlare del tempo del carcere come tempo di Dio per riscoprire la propria dignità e la fede nel padre per me è un po' la visita di un padre e dei figli io leggo così la visita del papa un evento di famiglia nella quale visita il papa può portare una parola di incoraggiamento di fiducia e di speranza il carcere è un luogo dove la speranza deve essere seminata a pieni mani il papa è capace di fare questo per i detenuti è colui che porta nel cuore veramente tutti e questo lo sanno quindi il messaggio che lascerà è un messaggio legato a questo a questo momento forte di esperienza di una persona così particolare che viene con anima veramente pieno di amore e di attenzione per i detenuti ed ora l'allarme terrorismo in Italia mai così alto il pericolo jihadista avverte il ministro dell'interno Merniti un arresto oggi a Torino progettava un attentato in Italia con la tecnica del camion lanciato sulla folla ma da anni stava anche cercando lupi solitari da arruolare ieri intanto a Foggia era stato fermato l'uomo che indottrinava i bambini per sacrificarsi al martino Luigi Ferragliolo amare i credenti e odiare i miscredenti era il credo di Elmadi Alili il ragazzo di 23 anni arrestato a Torino con l'accusa di essere un lupo solitario e di promuovere il proselitismo per l'Isis l'arresto di Elmadi arriva il giorno dopo il fermo di un egiziano a Foggia Moi Abdel Rahman anche lui con la cittadinanza italiana che usava un centro islamico per insegnare a giovani italiani di fede islamica a odiare i miscredenti la doppia operazione ha preso di mira concretamente per la prima volta il secondo livello degli stranieri con cittadinanza italiana fiancheggiatori o sostenitori dell'Isis non è un caso che nelle indagini sono state eseguite ben 16 perquisizioni e sequestri in tutta Italia Elmadi non è nuovo ad accuse del genere tre anni fa quando aveva appena vent'anni fu arrestato perché autore del primo testo di propaganda dell'Isis in italiano la prima condanna a due anni non fu pesante proprio per permettergli la possibilità di un reinserimento ma ciò non è avvenuto consente sostanzialmente di individuare il soggetto il soggetto ideologizzato ma in particolar modo orientato verso un'attività violenta di proselitismo per favorire insomma il reclutamento di soggetti che potrebbero diventare violenti in un contesto liquido in un contesto non preciso ma in un contesto delicatissimo perché in questa fase è questa la minaccia che noi dobbiamo contrastare Elmadi abitava a Lanzo paesino dell'Interland torinese la famiglia aveva cercato di recuperarlo spesso c'erano stati scontri con il padre la sorella al momento dell'arresta ha gridato ci avevi giurato che non l'avresti fatto più Elmadi invece si è scagliato contro i poliziotti chiamandoli tiranni il ragazzo trascorreva diverse ore sul web dove aveva creato una fitta rete di contatti sia nazionali che stranieri aveva anche incontrato di persona quattro italiani divenuti musulmani infatti le attenzioni dei servizi di sicurezza come a Foggia si sono appuntate sui concittadini convertiti e sugli stranieri con cittadinanza italiana su Facebook aveva scritto i cittadini di uno stato che non si oppongono all'attacco contro la religione islamica sono obiettivi da colpire il ministro Minniti durante il CASA e il coordinamento antiterrorismo nazionale ha detto che la minaccia della GIAD non è mai stata così forte in Italia esplosione oggi al porto di Livorno due operai sono morti l'incidente è avvenuto durante lo svuotamento di un serbatoio mentre i due uomini dipendenti della Labromare stavano effettuando dei lavori di manutenzione altri operai sono stati feriti noi abbiamo raccolto delle testimonianze ci aggiorna Luciano Piscaglia sono dipendenti della Labromare una ditta specializzata in bonifiche ambientali i due operai morti oggi nell'esplosione che si è verificata poco prima delle 14 nel deposito costiero Neri del porto industriale di Livorno la violenta deflagrazione è avvenuta all'altezza del molo 28 durante le operazioni di svuotamento di un serbatoio di acetato di etile si stavano effettuando lavori di manutenzione all'esterno del serbatoio numero 62 dopo che questo era stato svuotato quando è avvenuta l'esplosione investito in pieno un operaio è morto sul colpo mentre l'altro è deceduto in ambulanza durante il trasporto in ospedale abbiamo visto le fiamme che piegavano proprio questo silo che piegavano e le fiamme altre abbiamo staccato tutti i tubi e siamo scappati subito gli operai hanno detto di staccare subito e di scappare subito anche la paura chiedevamo che potesse scoppiare a raffica una concatenazione una catena di scoppi quella è la nostra paura la forte esplosione ha causato l'inclinazione del serbatoio altri operai per lo spostamento d'aria sono rimasti contusi o leggermente feriti tutta la zona per permettere la messa in sicurezza è stata evacuata l'area del porto è stata sequestrata su disposizione del pubblico ministero che conduce le indagini non si può continuare a morire di lavoro ha dichiarato Anna Maria Furlan segretaria generale della Cisle il prossimo primo maggio ha annunciato sarà dedicato alla sicurezza e alla salute sui luoghi di lavoro vota e risposta tra Lega e Movimento 5 Stelle Salvini precisa al colle il centrodestra salirà con delegazioni distinte e Di Maio avverte che non cerchi voti nel centrosinistra frizione intanto in Senato per la scelta delle vicepresidenze Augusto Cantelli la luna di miele post elezione dei presidenti delle camere è già finita tra Salvini e Di Maio cala il gelo per il secondo giorno consecutivo i due vincitori del voto del 4 marzo sfoderano il fioretto e non rinunciano all'affondo ad attaccare ancora una volta il leader leghista ma da solo Di Maio dove va dice voglio vederlo trovare 90 voti in giro che dalla sera alla mattina si convincono e poi aggiunge Salvini 50 voti sono molto meno di 90 in riferimento ai numeri necessari in Parlamento per consentire un'esecutiva attrazione leghista o pentastellata da Salvini anche la conferma che la lega andrà da solo al Quirinale immediata arriva la replica di Di Maio su Twitter Salvini dice che gli bastano 50 voti vuole fare il governo con i 50 voti del PD di Renzi in accordo con Berlusconi auguri conclude il leader pentastellato Tony accesi dunque tra i duellanti alimentati anche dalla partita in Parlamento per le elezioni degli uffici di presidenza a Palazzo Madama eletti come vicepresidenti Roberto Calderoli della Lega Ignazio Larussa di Fratelli d'Italia Paola Taverna per i 5 Stelle e Anna Rossomando del PD al Senato dunque ha retto l'intesa tra tutte le forze politiche eletti anche tre questori e otto segretari domani tocca la camera e voltiamo pagina cristiani e musulmani celebrano insieme l'annunciazione da otto anni questo avviene in Libano e quest'anno per la prima volta anche in Giordania mentre in un incontro interreligioso si affronterà l'importanza della figura della Madonna nel Corano e si rifletterà sul racconto dell'annunciazione nel Vangelo di Luca Marco Burini O Maria il Dio t'annunzia la buona novella di una parola che viene da lui e il cui nome sarà il Cristo Gesù figlio di Maria no non è un passo del Vangelo ma del Corano la sura della famiglia di Imran eppure ci suona familiare per forza è l'annunciazione cioè il mistero di un Dio che si fa carne nasce da donna certo questa non è la fede dell'Islam eppure i musulmani hanno sempre avuto grande venerazione per Maria di Nazareth a tal punto che già da otto anni in Libano la solennità dell'annunciazione è festa nazionale l'altro giorno il presidente Aoun ha aperto il palazzo presidenziale al patriarca siro-ortodosso ai vescovi delle diverse confessioni cristiane e ai rappresentanti del mondo musulmano sciiti e sunniti nella figura di Maria le tante voci della società libanese trovano una sintonia quanto mai preziose in un momento in cui il Libano è minacciato da gruppi che usano la religione per fomentare la discordia spinte settarie che potrebbero aumentare in vista delle elezioni del prossimo 6 maggio ma intanto in questo solco si inserisce la Giordania da sempre paese tra i più aperti e tolleranti del mondo islamico proprio oggi autorità civili imame prelati si riuniscono ad Amman per una celebrazione comune nel nome di Maria vogliamo mostrare i punti in comune fra cristiani e musulmani ha detto il vicario del patriarcato latino ad Amman William Shomali nel settembre di due anni fa il re Abdullah parlando all'assemblea dell'ONU aveva sottolineato l'importanza di Gesù e Maria nel Corano per attaccare gli estremisti islamici che nascondono deliberatamente queste verità per separare musulmani e non musulmani separare dividere gli uomini dagli uomini Dio dagli uomini esattamente il contrario del mistero dell'annunciazione ed ora con lo spazio di approfondimento affidato questa sera al direttore del sismografo Luis Badia torniamo all'udienza del Papa di oggi alla nuova condanna ai mafiosi è il minuto di Papa Francesco oggi durante la catechesi dell'udienza generale ha fatto un riferimento molto interessante nel contesto del trido pasquale al quale ci prepariamo tutti cioè alla settimana santa che per noi cristiani è la festa più importante in particolare la domenica di Pasqua il giorno della risurrezione Francesco ha detto che il vero cristiano non è mafioso e in un qualche punto della sua riflessione ha identificato il mafioso con coloro che hanno nel cuore e nell'anima la morte il contrario del cristiano che ha nel cuore e nell'anima la vita credo che sia una riflessione curiosa in parte non nuova però sostanzialmente veritiera e molto attuale perché il mondo appare oggi dominato sostanzialmente dalla cultura della morte nella relazione internazionale nella relazione interpersonale fuori e dentro delle piccole e delle grandi nazioni Pasqua dovrebbe servire a tutti noi il tribo Pasquale dovrebbe servire a tutti noi in particolare i cristiani a ricordarci che siamo qui non per spaccare il mondo bensì per riattaccarne i pezzi è tutto grazie per averci seguito Linea TGTG buonasera a presto a presto